ehi ovviamente un po' meno arma pompa ma dopo frase trovate che stavate a te ti dico è solo un po chi prima io questo premio che abbiamo visto quindi già siamo allenati possiamo fare la pistola è in Italia e vieni qua c'è un pompa qui da me è una pistola e ti do anche colpio attimo se emozionato c'è ci sono tutti con i lati quando io non c'è la casa non è luttata c'è ci sono c'è un pompa verde io ne ho buttato in mano però perché vai da solo no no vai tu ne ho buttato in terra va bene quanta velocità quanti mi buttai a terra 2 eh si e sono morti eh la pure il minore eh vabbè dai ma poi c'è la pistola occhio quando l'anghi è pure io no 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 proprio io io ho un bel calibro leggendario io ho fatto lì ma ti vieni qua no no però è la foto io ho detto ma devi morire no sai scherzata mia chi ha la giara è una giri porta da casa oh c'è uno score ah no ma d'ora la tico viene qua la tico senza mi ti sei che qua vai per l'ingrante poi un palloncino no doveva avere i pagliacci perché non mi sono comprati i pagliacci quanti palloncini per te eh ma devo prendere le cure venite sento a cassa stavo il pilo vanto sicuro mi sembra vedere il pilo vanto prendo io prendo io prendo io prendo io vai andiamo ragazzi vai ma si doggio diretti go c'è il tuo istante la terra oh trish no no io non ci mollegna per prendere le no 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 sempre qualcosa no può essere pure che c'è qualcuno e non dico che ragazzi materiali se ne avete però vieni qua posso dare solo ok vabbè fai niente è importante però non puoi direi però vabbè prendili anche se ne do 200 anni non la metete bene prendili però andiamo qui sopra ragazzi il cubo però si sta per distruggere un po' implode tantissimo come li chiami giuseppe giuseppe vai giuseppe giuseppe vieni ai materiali ok thank you ma io come tu perchè vanno i blazer oh paloncini che senso hanno i paloncini non lo so è solo per le storie di quelli la di per i giusti ragazzi vedi sto bug l'odio tipo della vita reale se ne hai importo dai ragazzi andiamo dai vai ma dove spazio quel fortino ragazzi oh ci atterriamo sopra si atterriamo su no no non mi devono chiamare ora ora non mi devono chiamare no non scende da qui non scende da qui ci sono le trappole ok e che scende bra restiamo sopra che così belle chiedi che è questo piccolo era ah io ho visto i piccoli volare zombie ok siamo sì ragazzi tre contro tre siamo tre contro tre ma tre contro te zitto no no raga compito la generale ha girato a me l'hai dimenticato matti matti ti ha luttato tutto tutto ha luttato anche matti vabbè dammi tu ce li hai no no non ho niente ho il pompa piccoli perché ti devo aiutare le cuffie matti oh coglione hai fatto le cose brutte oh braa oh paronna mia matti col pv colpire la lancia razzi colpi della giurale mi hai bene n e poi che raga rimane ieri vedete qua questo anzi è qui qui dentro e e a loro c'è vai uscire il giacchetto che anche tu hai come se hai detto io giusè fai uscire il ninja che ti ok che mi dove fai con dracone fai con dracone che fanno come fai con dracone ecco se devo fare il ninja devi diventare ninja diventa un po che ti sento perché tutto è chiuso a fare questo non possiamo rimanere chissà dove cazzo sono può essere uno sta sulla piramide del fortino occhio piano il cecchino occhio piano il cecchino quale piramide bru non so una di 127 con la bassa diciamo vabbè un casino eccoli fatti al cecchino ma ti no non c'è chi ha il cecchino libro si è proprio bene vediamo la cosa positiva è che stanno andando a tolto una cosa bella anche a me la forza costruisci costruisci protetti vatti diamo vatti diamo ok tieni il menu ma che c'hai il menu e arriva un lancio ah scendiamo 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 eh no bugia si scendiamo non da questa parte occhio che più uscino arrivano qua da me mi corre andiamo insieme scendiamo vai vai bravo 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 la moto nella cita la ci sono una per un altro era già mai perché non te ne metti perché ero nella prova dai siamo 3 contro 1 c'è ne è pagato la quanta si va per colpato si va 60 in testa ma non mi macellato sicuro un attimo bravo 70 70 blu bravo bravo e anche bravo beh